Siamo con Silvano Locardi di Bayer per parlare di un nuovo strumento digitale, Grape Vision, lanciato da Bayer. Silvano, ci puoi spiegare che cos'è e come funziona? Sì, Grape Vision è un sistema di supporto alla decisione, quindi un classico DSS, che agisce sia su peronospora o idio e anche botrite e permette di ottimizzare gli interventi in campo, quindi è a supporto dell'attività del viticoltore. Spiegaci meglio, in quale modo questo strumento aiuta poi l'attività di campo giorno per giorno del viticoltore? Grape Vision unisce le previsioni meteo della località, la suscettibilità della varietà di vite a quella che è la pericolosità dell'insorgenza della malattia, quindi restituisce in una forma molto pratica e molto facile da interpretare quella che è l'utilità dei trattamenti, quindi farli nel momento giusto, quando servono, e siano al massimo efficaci. Ecco Silvano, sappiamo che il tema della sostenibilità oggi è centrale in agricoltura e soprattutto in viticoltura. In quale modo questo tool digitale aiuta l'agricoltore ad essere più sostenibile? Beh, direi che è proprio il senso di Grape Vision, quindi quello nell'ambito dell'intera campagna agraria, quindi dell'intera stagione viticolica, proprio di ottimizzare l'utilizzo dei principi attivi per evitare di applicarli fuori tempo massimo, in modo troppo percoce e quindi di inficiarne l'efficacia. Con Grape Vision l'agricoltore sa quando deve trattare e lo fa nelle quantità e nei tempi coerenti, quindi assolutamente in ottica di sostenibilità ambientale. Grazie Silvano per queste informazioni, naturalmente per chi volesse avere maggiori dettagli può contattare il tecnico Bayer di zona oppure visitare il sito di Bayer CropScience. Grazie!